Vi ringrazio di avermi invitato. Io ormai è cinque anni che mi occupo a tempo pieno della tematica della criminalità organizzata, soprattutto calabrese nel distretto della Corte d'Appello di Milano. E in cinque anni sono andato spesso di verità a parlare con cittadini che sono un po', poi vi spiegherò, però diciamo c'è stato sempre per tempo a contatto con la realtà e di non fossilizzarmi solo nelle attività investigative in senso stretto che possono alcuna volta assorbire veramente la vita di una persona. Quello di cui oggi volevo parlarvi è un po', diciamo, eccentrico. Nel 1600 c'era Bacone che aveva scritto un bel libro che si chiama Novo Morgan e sostanzialmente individuava quelli che erano, che definiva l'idola, pregiudizi, false convenzioni che ci impediscono di prendere adeguate decisioni. Io credo che in questa materia che noi, di cui ormai mi occupo, perché da cinque anni ci siano tante false convenzioni da sfatare e chiamiamo queste false convenzioni come faceva appunto Bacone, dell'idola e vediamo e iniziamo a capire quali sono. La prima falsa condizione deriva dal linguaggio. Prima la professoressa inglesi, Tone e Sacomi parlavano un po' di infiltrazione. L'infiltrazione dà l'idea, in termini, di qualcosa dall'esterno, di buono, di cattivo, che viene a contaminare qualcosa di buono. Non so, pensate, l'espressione, il muro infiltrato, un'acqua cattiva che in qualche modo va a deturpare qualcosa di bene. E nella espressione di infiltrazione noi abbiamo questa idea dell'andrangheta dei calabresi, cattivi, che vengono in qualche modo a disturbare e a inquinare un tessuto civile sano. L'espressione evoca anche una situazione in cui è l'andrangheta che va verso la società civile, è l'andrangheta che si rivolge all'imprenditore chiedendo il pizzo, è l'andrangheta che si rivolge all'imprenditore dando gli denaro a usura, è l'andrangheta che si rivolge al politico dicendogli i due voti. L'espressione è ancora infiltrazione anche molto autossolutoria, perché capite che questa espressione noi ci sentiamo molto puliti. No, ecco, cinque anni di indività giudiziaria mi dicono e ci dicono che la realtà non è così, che il linguaggio in questo caso deforma la realtà, che il linguaggio serve solo a determinate categorie per, ripeto, auto-assollersi. In tutte, insisto, tutte le indagini che noi abbiamo fatto è l'appartenente, adesso diciamo in generale, alla società civile del nord che si rivolge all'imprenditore. L'iniziativa non parte mai, quasi mai, dal soggetto calabrese. Io non ho, non sono calabrese, non ho particolari interessi a difendere, voglio dire, una regione d'Italia. Però, tal, lo ripeto, per esperienza. E vi indico una serie di situazioni in cui questo si è verificato. Un imprenditore in crisi di liquidità si rivolge all'istituto di credito, che non gli dava perché ha protestato su quello che aveva forse i figli eccessivi, denaro. Si rivolge direttamente all'andranca e te trova 500 mila euro in contanti che investe immediatamente nella sua attività economica. La TNT, che è una multinazionale orlandese con ambiti di operatività in tutto il mondo, aveva problemi sindacali. Cosa intendo per problemi sindacali? La TNT funziona così, c'è questa è la Casamatta, la sostanzione di preparo con molta tranquillità perché ormai sono proprio diventi passati in giudicato e far con nessuna difficoltà. Dicevo, la TNT si avvale dei padroncini di cooperativi per fare poi le consegne in tutto l'Italia. Questi padroncini a un certo punto si poi iniziano perché vogliono condizioni di lavoro migliori e vogliono anche più stipendi, ho tolto una giornata poco in porta adesso. Iniziano una verdenza sindacata, iniziano a, diciamo, disturbare, a fare alcuni giocchi. Le figure abicali, sto parlando di quattro spessati, figure abicali della TNT Italia, qui gente in qualche modo istruita, guadiererà almeno 8-10 mila euro a mezz'anno. Cosa pensa di fare? No, non è di stare con una tradizione sindacale. Chiamano appartenenti alla famiglia Flachi, che è una cosca mafiosa di Milano, per risolvere questi problemi sindacali. Questi arrivano, vi lascio a pensare con che metodi, risolvono immediatamente il problema sindacale, si mettono a lavorare per TNT e iniziano a guadagnare. Fortunatamente siamo intervenuti e la situazione si è determinata, si è risolta. Però in questo caso si fa vedere plasticamente come andrà, che non lo sapeva cos'era la TNT. Sono i vertici della TNT che hanno chiamato questi soggetti. Recupero crediti. Imprenditori che per un motivo o per un altro non riescono a recuperare i propri crediti, perché il debitore è insolvente, il debitore non vuole pagare, non credono, alcune volte mi ha avviso ragione, rivolgersi all'autorità giudiziaria, al giudice civile, perché ci mettono per 10 anni per recuperare un credito. E questo è quello che fa una volta a dire. Allora non fanno altro che rivolgersi al boss di turno. Con quel credito, ti dico, con molta chiavezza, viene recuperato. Magari non tutto, perché poi ovviamente il boss vuole qualcosa, però commetti di più che, diciamo, convincenti, riesce a portare a casa le sue pretese. C'è stato un imprenditore addirittura che si è rivolto all'avvocato e dice no, era uno stesso proprio bravo a recuperare i crediti. Devo dire che in realtà si userà in mente di che recupera il proprio bravo. Sai cosa faccio? Io lo sono in aziendità con la funzione di garantire l'assolvibilità dei miei crediti. L'avvocato correttamente dice, guarda, forse non è il caso, perché siamo un po' eccessivo, non è cosa. Però anche in questo caso, ripeto, non è l'uomo della comunità organizzata che cerca. È l'imprenditore che ha bisogno perché è la grana che offre i servizi. Ancora, alcune volte dia l'obiettivo e la necessità di potersi della delinquenza. Imprenditore che inizia a subire le sanzioni, anche di credibilità comune, gente che spaccia davanti al suo negozio, cose fastidiosi, invece che rivolgiscono all'autorità giudiziaria. E si rivolge all'Andrani. Anche qui, un'esperienza tra l'altro al caso concreto. Era una grossa azienda che si occupava di quel set. Era Ciornozzo sul Naviglio, si chiamava BluColo. Con commesse da primarie società, a fini di spondatore, veramente un'azienda che funzionava, mille dipendenti. Come una filiala rende, provincia di Cosenza. Filialemente ha iniziato ad essere, come dicono carabinini, reattenzionata da cosca calabresi. E allora gli imprenditore, no, cosa fa? Qual è la pensata? Dice, ma sapete cosa faccio? Io mi cerco di difendermi, chiamando una cosca opposta a quella che mi sta in credenza. E così avviene. E infatti la cosca più potente, quella di Bellocco, arriva qua e risolve il suo problema di, diciamo, un cosiddetto. E il problema non ne sono. L'imprenditore, insisto, non si rivolge all'autorità giudiziaria. Le discoteche, in Brianza, ne avete molte, moltissime. I servizi di sicurezza sono sostanzialmente in mano a mano. Perché è chiaro che se la cremietà comune, sapendo che lì esiste un soggetto con un certo peso, diciamo così, non va a disturbare. Qua vicino, ma le loro comesse, due settimane fa, ci sta contenta l'omicidio di questo tipo. C'era il soggetto che faceva il buttafuori, o come un butta dentro, come si chiama, le discoteche, e al termine del servizio risparmio tra i copri di un'istola legale. Ripeto, 15 giorni fa qua. Vicinissimo. Ancora, il politico, ma senza pagare, si rivolge a esponenti riconosciuti della cremietà organizzata per ottenere voti. Non fa scambi, ripeto, in questo caso, perché è rara le situazioni in cui il politico paga o promette qualcosa. Chiede dei voti, un bacino, poi dopo si vedrà. E questo è avvenuto anche ad elezioni, diciamo così, amministrative. Qua non sto a nascondere, è comparso sulla stampa, che ci va l'eco, c'è stato un amministratore che davanti all'autorità giudiziaria, al carabinieri che lo interrogarlo, spesso piange, non ha paura. Ora, detto questo, e detto quanto il termine di infiltrazione si è inadeguato, devo parlare veramente di convergenza di interesse, non di infiltrazione. Perché questa è la modalità, e sulle parole che fotografano la realtà. Ma non finisce qui. Perché l'imprenditore, diciamo la figura professionale del nord, pensa che l'andrangheta sia utilizzabile. La chiamo per il recupero crediti, la pago, poi basta. La chiamo per sistemarmi l'azienda, ma poi quando voglio la mando via. Ecco, questo è un altro luogo comune da sfatare. L'andrangheta non se ne va, rimane. Una volta chiamato per il recupero crediti, l'imprenditore sarà sempre schiavo di questa persona, che inizia a chiedere gli soldi. E lo farà nei modi più utili. E questo è... Mi veniva prima in mente, però, con il processo di riconoscimento. Perché qualcosa inizia a succedere. La prima volta ti aiuta. La seconda volta inizia a trovarti una busta con delle minacce a casa. Non capisci da dove avrei. Perché tu non hai nemici, pensi a cose più assurde, perché da intercettazione emerge, ti hai litigato col vicino, però dici, ma questo qui non mi sembra come forse a far capire la pallota. La tua famiglia inizia a essere terrorizzata, perché quando inizia a mettere in mezzo i figli, e sapete chi è l'autore della lettera anonima? Colui al quale l'imprenditore andrà a rivolgersi per chiedere aiuto. È una sorta di assicurazione che l'andrà anche a dare. Cioè dice, come è stata l'assicurazione della macchina, no? Se succede un incidente, io ti denunizzo. Con la particolarità che però qui, a differenza dell'umale contratto assicurativo, la fonte del rischio è lo stesso assicuratore. Perché immediatamente, visto le buone prove che ha dato nel recupero credit, il soggetto andrà da questa persona e dire, guarda cosa mi è successo. E allora questo inizia da dire, ah guarda, io so, ti posso risolvere i tuoi problemi, però costa. E qui si entra un vortice in cui no, non si finisce più. Ecco, non la faccio breve sul punto. Un'azienda di mille dipendenti, dipendenti, con queste commesse, è entrata l'andrangheta in un anno e mezzo distrutta. Tutti licenziati, azienda completamente fallita, perché chiaro che non ha nessun interesse all'azienda. L'azienda serve per spillare i denari, vengono assunti senza sostanzialmente fare niente. L'azienda serve per mantenere la titanta. Si affittano casa qua, perché qui le persone ovviamente voi non conoscete, magari soggetti epicali di esponenti di organizzazioni calabrese, perché qui è più facile limitizzarsi. Ecco, l'azienda ha molte finalità, l'azienda ma non andrà anche da determinante, perché vuol dire poter avere posti di lavoro. I posti di lavoro creano un senso. per cui la falsa illusione che ci si può liberare immediatamente di questi soggetti è assolutamente come dicevo falsa e inconsistente e chi lo ritiene fa un discorso estremamente stupido. Terzo luogo comune, terzo idola che io titolerei ma non ho mai ricevuto un'informazione di garanzia. Politici, imprenditori, avvocati, commercialisti, magistrati. Può succedere consapevolmente vadano a cena, frequentino soggetti quantomeno chiacchierati. questo non è un reato perché non lo è. Nessuno mi ha sognato di arrestare una persona perché è andato a cena o no. I commercialisti spesso, anche tanto voglio dire non è mai si fa così, intestano società su richiesta, intestano pur essendo sapendo benissimo che il soggetto di cui si occupano non sarà reale titolare. Questo non è un reato. Non sono se ne sogniamo di arrestare qualcuno per queste ragioni. Il magistrato che consapevolmente invita a casa la sua ma senza nessuna illecita freschi soggetti appartenenti o chiacchierati un commento vero. Però la domanda che vi faccio è ma il diritto penale è veramente il limite dell'etica pubblica? Ci voglio dire noi siamo disposti a rispettare le regole solo se sono fissate nel diritto penale o c'è qualcosa forse di prima? Ci sono delle regole deontologiche che sono introdotte professionale in modo dell'avvocatura in modo della magistratura in modo dell'interdittoria in modo dell'istituzione che vanno rispettate prima? La risposta è sì o meglio la risposta è no perché no? perché da parte degli ordini professionali come faccio alcuni esempi c'è un totale disinteresse per questa cosa commercialisti colpiti perché sottoposti addirittura a misure di sorveglianza speciale sono misure di prevenzione segnalanti a molti dei commercialisti che si imprega totalmente questa roba totalmente idem per l'ordine degli avvocati idem per il mondo dell'impresa ora voglio fare un esempio di quanto può essere veramente scarsa attenzione da queste regole non penali il cui rispetto però è fondamentale perché se un semplice cittadino vede colui che sa essere un appartenente all'andragica andare a bracetto col sindaco del comune o con l'assessore senza commettere reganti ripeto cosa pensa un'amministrazione bancata se lo vuoi andare a bere il caffè col magistrato cosa pensa che sono tutti uguali e dicevo quando un esempio che trago da colleghi d'amico mi hanno raccontato in alcune occasioni del mancato rispetto di queste regole sociali detenendo che ci vuole un'informazione dei garanzini professore universitario del centro Italia soleva intrattenere le relazioni intime con le studi interessi non era tanto affettivo perché subito dopo l'esame questa relazione è cessata viene arrestato e poi molto attestato queste relazioni intime c'erano ma buon per lui che non avevano nulla a che fare per il superamento degli esami viene dicevo restate poi buon per lui al sol viene intervistato il prese che dice siamo felici tutti noi siamo felici siamo felici di riaccoglierlo tra noi ecco vedete questo è innocente perché innocente fino a prova contraria non è definitivamente innocente ma questi non devono essere accolti devono essere cacciati però questo è quello che succede di essere riaccolti perché il passaggio dal penale prima o dopo una specie di lavacro che tutto si stema e tutto l'ha però se si aspetta l'intervento del penale non si va molto perché ci sono alcuni comportamenti che certo non possono essere incriminati il quarto idola che chiamerei questo più difficile di ingerire è chi la spara più grossa cos'è questo idola sento giornali televisioni radio in cui anche i miei colleghi pontificano mi sono rafforati tra un'altra anche talcheida tra un'altra che delira la un'altra anche talcheida in borsa a Milano abbiamo sequestrato 4 miliardi di euro ecco non esito di finire queste due parti destinate a due finalità la prima a farsi vendere la seconda a creare un'allarme sociale in questo modo poi di chiarare che c'è l'armi in campo per voi vi invitate qua siete contenti quando va vi presentano i magistrati come figure di eroi senza macchia ecco dicevo prendendo un discorso più lontano queste sono palle perché la dranga però non assurda rapporto internazionale non è vero andrangheta non è in borsa ricerche effettuate anche da persone serie attestano come gli investimenti anche per la scarsa cultura sono in ambito immobiliare esercizi commerciali bar tabacchi ristoranti immobili ma questa cosa del figlio dell'andranghetista che studia a Oxford e poi diventa avvocato per entrare in borsa scurare le depressioni con lo che da sovranza allora è quello che si chiama quello che Fiatano è un professore che insegna di diritto appena alla Palermo tanto studiato questa materia chiamato populismo giudiziale mi dice ci sono alcuni che concepiscono l'impegno giudiziario contro la criminalità organizzata come una sorta di servizio che include funzioni divulgativo pedagogiche volte informare educare orientare la gente del popolo in modi di lavoro nelle scuole nell'associazione di volontariato e nelle famiglie e questo va benissimo e sempre però è buonmente il rischio che l'attività fatto senso pedagogica del magistrato forse svolta fin di me lo trasformi agli occhi della gente meno avvertita in una sorta di garante o difensore del popolo contro gli abusi del potere e dei potenti con conseguente riemersione di perniciose sembianze populisti e adesso che noi corriamo questa stagione non è quello di trascurare la lotta alla mafia ma di non capire che cos'è la lotta la lotta alla mafia non è il magistrato contro le istituzioni faccio una parentesi io credo che la mia storia in qualche modo parli per me non sto difendendo i corrotti guardate io non restare per i miei colleghi magistrati politici per cui non ho queste difficoltà per dire a mettermi contro il potere politico lavoro a stretto contatto con la dottoressa Bocassino non credo che qualcuno possa accusare di arrivare di evidenza col potere politico però dicevo il rischio del corriano è quello di presentare il magistrato come uno contro le istituzioni che non è perché il magistrato è un'istituzione vive le istituzioni che quando hanno dei problemi quando sono diciamo da sanzionare vengono fatte ma questa idea del magistrato eroe non va bene non siamo letti dal popolo noi siamo ripeto anche questo è più che convinto funzionari ben pagati che facciamo un bel lavoro dello Stato a servizio dell'interesse e approfitto di questo discorso per dirvi può affrontare un'altra idola la mafia è un male assoluto queste idola che ne dobbiamo combattere e ve lo dico un parola di un sociologo che ha avuto anche amico di lo stesso ingresito raccocciarone raccocciarone è una messaggia piuttosto poderosa poi è apparso recentemente sull'indice dei libri che si occupa di una recensione un articolo che commentava a tanti anni di distanza un articolo di sciaccia su professoresi dell'antimafia che vi risparmano non è questo momento di parlare però guardate cosa dice io sono di scrivere questa affermazione due visioni della mafia la mafia come male pubblico e la mafia come male assoluto la visione della mafia come male pubblico ovvero contrapposto al bene pubblico è assai diversa da quella che la rappresenta come un male assoluto le due visioni alimentano modelli differenti dell'antimafia la prima la mafia come male pubblico come la quali vi sono parlati richiede innanzitutto di comprendere i meccanismi generativi e riproduttive della mafia in modo da inceparli e disarticolarli con interventi mirati che presuppongono scelte strategiche tra diverse forse di azione mentre la seconda ma l'assoluto veicola l'idea di una guerra tra il bene e il male quindi chiama in caso soprattutto ragioni di ordine etico e morale quest'ultima visione ma l'assoluto ben rappresentata dalla figura dell'eroe anti-mafia ed è una concezione ecumenica della lotta al crimine organizzato finisce paradossalmente per debolicizzare una questione mentre la prima ha necessariamente bisogno di essere rispiegata nella sfera politica lasciando spazio alla discussione e al confronto critico cosa intende di Richard Romi nella faccia di termini brevi se la mafia è un male assoluto io sono disposto ad accettare qualsiasi danno collaterale consapevolmente assoluto cosa intendo per danno collaterale arrestare gente che poi non ancora non c'entra niente perché a fronte del male assoluto tutto deve essere fatto tutto può essere fatto voi pensate alla sciuola tutto deve essere fatto per fare male alla sciuola e la stessa cosa ha questa visione della mafia come male assoluto inizia a fare processi perché non mi interessa il dato mediatico non mi interessa capire il fenomeno è questo che noi oggi dobbiamo evitare io capisco che siano un po' discorsi condivisibili o meglio di dire un po' più o meno avesse come vuole cosa faccio difficile a digerire ma guardate queste visioni dell'eroe di mafia hanno portato tanti tanti molti io non sto a cui fare nomi e cognomi perché voglio dire ognuno può pescare nelle proprie fantasie ma quante volte i soggetti devono sparututi in prima pace in avestate poi si scopre che non c'entrava niente perché la visione non è stata quella di ponderatezza di cercare di capire quello che succede di raccogliere le prove al di là di ogni ragionevole dubbio anche nel corso delle indagini facendo fatica sapendo aspettare sapendo frenare la polizia giudiziaria quando questa vuole esagerare poi risultati per lo schede anche sono lì da vedere i nostri progetti sono l'idea di Milano in quattro anni passano a giudicare vuol dire che dal momento dell'arresto noi in quattro anni facciamo tre grandi tre grandi giudizi con gente che rimane in quattro anni perché le operazioni che abbiamo fatto non è che ci è vita molta gente certo perché ci cerca di capire ci cerca di studiare la donna è vista come un oggetto che viene scambiato per attuare alleanze tra famiglie questo e non sto parlando di Sudafrica del Kenya sto parlando 2015 Lombardia due famiglie si allenano scambiandosi le donne perché in questo modo la famiglia divina più potente più potente come numero e con maggior impatto delinquenziale sulla realtà essere in 30 o essere in 60 non andrà in una casa o qualcosa e se tu vuoi sposare un altro no mi racconta una storiella che non è storiella che è successa dall'anno 2015 ragazzini di 13 anni 13 anni a dire secondo me che ha delle simpatie per i suoi amichetti per le scuole come avviene normalmente la famiglia però la già promessa ha il figlio di un capolocale di un'altra famiglia età 23 voi capite la ragazzina bambina di 13 anni cosa può pensare perché non si rende conto neanche di quello che le succede iniziano a fare pressioni psicologiche iniziano a farle frequentare gli amichetti perché tu devi vedere quello lì di 23 anni e lei risponde ma io non sono ovviamente interessate capisci anche poco a fuori di pressione la recente si conclude che un po' di due mesi sono fidanzati in casa 13 di tre il fidanzamento viene festeggiato con un banchetto a cui non partecipano le donne non partecipano e questo si chiama il coraggio e la tradizione no? questo non ha nulla a che fare con il matrimonio con le tradizioni settimo idola la brangheta è un fenomeno di passaggio e qui direi che non vi è mezzo migliore per smettere questa affermazione di due dichiarazioni fatte una da un collaboratore di giustizia e l'altra da un'intercettazione ambientale la prima un collaboratore la brangheta a differenza delle altre appartenenze criminose ha una sua cultura e mentalità a differenza magari di un mafioso come Sicilia che va sale a Roma e fa un affare e se ne va l'andranghetista si arriva in un posto per un problema di lavoro un problema di spostarsi tra pianti locali c'è un allessante nel suo DNA questa è la differenza il siciliano mafioso arriva a Roma fa l'affare se ne torna no il calabrese si ferma e si ferma perché? e vi dico perché l'intercettazione 2014 è un capo mafia il mondo si divide in due ciò che è Calabria e ciò che non diventerà e questo è l'idea dell'intenzione diciamo probabilmente un po' per l'Italia però questa è l'idea che ha l'invito ottavo idola che oggi ti intende a scomparire ma la riga di difensore di tanto le compagnie in questo argomento la mafia non è un'organizzazione è solo un esagerato sentimento del sé essere un po' spavati difendere i deboli e guardate queste cose che dicevano i proprietari generali con le sue porte di appello nel sud negli anni 70 antissimi ecco invece Andrangheta è una vera e propria organizzazione ad oggi al netto c'è il corso ovviamente in Lombardia abbiamo individuato le seguenti locali locali significa sostanzialmente sudalizi criminosi che operano in determinati luoghi e dovete sapere che per ogni insediamento rombardo vi è un omologo in segnamento in calama cioè vale a dire se c'è un locale dicendo infatti faccio un esempio su tutti ci sarà un locale di gente del medesimo paese a Siderio allora dicevo dalle indagini effettuate oggi abbiamo i seguenti locali Calozio-Corte che è diciamo così un'emanazione di Giffone redente il paese che fa adesso Erba Isola Caponezzuto Fino Mornasco Giffone Cerminati Giffone Legnano Ciro-Marini Bollate Rosario Guardavallo Milano Siderio e Caolonio Corsico Platino Giussano Guardavallo Ariano Comense Giano Seregno Mileto Desio Venello Ionico Cormano Bronteria Pioltello Caolonia Bresso Occhio Domenertini e ripeto alletto l'indagine di corso per cui esistono queste organizzazioni queste organizzazioni hanno un loro linguaggio parlo di operare che vuol dire inserire uno in un'organizzazione criminosa parlo di ambasciata che vuol dire mandare un messaggio parlo di vaccina che è sostanzialmente la cassa comune parlo di trascuranza per indicare le giudizioni delle regole dell'andrangheta parlo di fermo quando il soggetto viene posato momentaneamente diciamo così messo a riposo parlo di malandrini per indicare gli appartenenti all'andrangheta parlo di copiata che sostanzialmente è la riunione delle persone quando vengono date le doti poi vi spiegherò cosa sono le doti hanno precise rituali di ingresso e di uscita o meglio precise rituali di ingresso che sono riconducibili di una volta che le lettere di passaggio voi considerate le nostre tradizioni quando uno si battezza e entra nel mondo cattolico il reto del passaggio da un mondo non cattolico quando uno si sposa con un altro rito di passaggio finanziamento un rito prima del passaggio un soggetto passa da uno stato diciamo così di simbolo a uno stato di sposaggio il funerale di passaggio dal mondo dei vivi a quello dei morti dove questi riti sostanzialmente servono almeno così dicono gli antropologi per attutire degli eventi nuovi che si verificano all'interno della società e di conseguenza potrebbero creare qualche difficoltà ecco che il reto serve a quello per passare dal mondo lato e qui abbiamo la stessa cosa con riti di passaggio riti con formule precise in cui il soggetto passa da un mondo degli esseri normali al mondo dell'andratica da cui si è detto con chiarezza questo si esce in due modi o morti o collaboratori dagli uniziani altri modi per riuscire non c'è nessuno ancora abbiamo all'interno delle locali che sono questi raccoltamenti territoriali delle precise funzioni abbiamo il capo locale che è il nostro comando nel locale abbiamo il capo società che è il braccio destro abbiamo il contabile che è quello che tiene della contabilità abbiamo il massimo di giornata che è colui che è incaricato di portare le novità che succedono nel piano del locale agli altri questo è il suo compito io non si su queste cose ma vi sto parlando di realtà molto distanti da qua ma probabilmente qualche chilometro ecco ancora all'interno dell'andratica vi sono doti il potere di fissare queste doti 20, 30, 40 all'infinito dà un grossissimo potere al capo locale perché tutti aspirano ovviamente ad arrivare in alto ecco queste tematiche come dicevo prima sono veramente da prendere sul serio e non sono folclore perché poi ci scappano i morti ci scappa il traffico delle droghe ci scappa l'estorsione chi più ne ha veramente più ne merita dei reati scopri ma un'altra regola febbra non si possono avere parenti che sono appassati appartenenti alle forze dell'ordine come forze dell'ordine però è un concetto molto largo perché neanche la guardia giurata non è fatto il tuo pare ultimo punto l'andranghade è facile da riconoscere e qui non lo presento mentre lo scorso sul tema non lo riconosce però diciamo qui noi abbiamo un po' di problemi di riconoscimento perché non non siamo forse abituati questo vale anche veramente per la magistratura e per le forze dell'ordine che alcune volte non sono in grado di percepire nella loro gravità alcuni fenomeni di violenza anche a bassa intensità una pallottola sulla saracinesca la macchina bruciata che capisco sono fatti in grado però sono fenomeni che possono succedere perché il volo circuito la macchina può capitare mentre poi almeno la Tidea Bialiano abbiamo organizzato un cosiddetto monitoraggio in cui le stazioni dei carabinieri per tutti i fenomeni anche ripeto di bassa intensità che anche solo eventualmente possono ricollegarsi a questi dati che vengono trasmessi ed elaborati poi da noi vediamo qualsiasi soffermi per andare avanti oppure no però vi voglio fare un esempio di che io racconto spesso di come sia difficile alcune volte riconoscere le situazioni può far sorprendere ed è un esempio veramente equatante e perdonatemi però per farmi percepire alcune volte funziona così nell'ambito delle indagini giudiziarie i carabinieri o forze di polizia raccolgono notizie di reato è successo questo fatto la trasmette la magistratura che poi deve scrivere che dire quello è un furco una rapina questo è un 416 bis questo è uno sporchi e lo iscrive in un apposto registro in data è arrivato questa notizia di reato che attiene a questo e quest'altro la rapina a un mio collega arriva una notizia di reato di questo tenore un amministratore locale come trovi il governo di qualche paese riceve a casa sua la testa di maiale mozzarella fatto di una certa obiettiva e allora si trova per registrare e il mio collega è iscrivito per il reato di maltrattamento dei animali ecco questo per dirvi è il paradosso ovviamente però quanto alcune volte può essere difficile rendersi conto di cosa abbiamo che fare e io concluderei perché credo che questo sia importante questo devo ancora un po' studiare ma non è vero più o meno la sono fatta concluderei con una frase che è poco citata di un uomo di fortuna che però secondo me di tutti quando parliamo di magistrati antimafia o di lotta alla mafia dovevano perdere una serie dice gli uomini di loro non sono né diabolici né schizofrenici non ucciderebbero padre e madre per qualche gravo di cocain sono uomini come noi la tendenza del mondo occidentale è quella di esorcizzare il male proiettandolo sui mie e sui comportamenti che cercano diversi dai nostri sottolineo che ci appaiono diversi dai nostri ma se vogliamo efficacemente combattere la mafia non dobbiamo trasformarle in un mostro né pensare che sia una piove o un cancro dobbiamo riconoscere che ci rassomiglio e qui mi ricollego alle scorse che facevo prima se non ci rassomigliasse la società civile del nord non andrebbe a cercare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti